Polide è una persona che sarebbe senza cittadinanza, a Polis, senza origine, praticamente scevra di tutte le radici che la uniscono a una nazione o che solo ha un'idea d'origine appunto. In quel momento quando ho scritto questo libro io mi sentivo così perché mi mancavano fondamentalmente dei punti di riferimento e questi punti di riferimento penso si possano riassumere come esigenze lavorative, come aspettative che una persona ha e poi crescendo le vengono a mancare per tutta una serie di situazioni che non si è creata lei e questa persona non pensava di dover affrontare. Quindi ho pensato che questo fosse un titolo con una parola se potessi riassumere un po' tutto quello che stavo vivendo io, tutto quello che stavano vivendo i miei coetanei e anche un po' tutta la storia, non è una storia molto lunga, è una storia che si dipana in 88 pagine, però credo sia abbastanza piena di cose e quindi credo che questa piccola parola la possa riassumere abbastanza bene.